Fil fantasma, oggi voglio parlare di questo fil che in realtà non è proprio un fil, è più una concezione, un tipo di fil che ho visto fare a Steve Jordan e ho detto che figata, non ci pensiamo mai ma in effetti è una figata pazzesca. Come sapete Steve Jordan non è un batterista super tecnico o comunque lui in realtà la tecnica ce l'ha perché con tutto quello che ha fatto in passato ha fatto vedere che la tecnica ce l'ha ma è un batterista minimal nel senso lui è uno che tiene il tempo come tiene il tempo lui non lo tiene nessuno ma comunque 4 quarti dritto senza fil eccetera ma in realtà ci sono delle sfumature che fa ogni tanto in alcune canzoni che ci devono far riflettere ci fanno capire moltissime moltissime cose. Fra queste no, prima vi ricordo di iscrivervi al canale così se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi cliccate sulla campanellina eccetera poi vi dico quello che vi stavo dicendo prima cioè che l'altro giorno stavo ascoltando per la 200 millesima volta Gravity di John Mayer dove ci sono John Mayer, Pino Palladino e proprio Steve Jordan alla batteria. In questa canzone praticamente Steve Jordan non fa mai passaggi suona tutto Charleston rullante di gran cassa ma è proprio qui dentro in questa canzone senza passaggi che si trova il film fantasma cioè il passaggio fantasma. Vi faccio sentire come fa il groove della canzone e vi faccio sentire il punto dove c'è il film fantasma voi dovete beccarlo. Avete capito dove è il film fantasma e tanti di voi l'hanno capito e tanti hanno detto ma non c'era nessun film. Infatti la figata di questa cosa che ho appena suonato è che il groove della canzone vabbè in 12 ottavi ed è continua tutto così per tutta la canzone ma a volte soprattutto prima che incominci la voce eccetera Steve Jordan fa questa cosa la batteria che ho fatto anche prima in realtà cioè quindi va a mettere una cassa in modo diverso cioè una cassa subito prima del rullante. Questa cosa è un film in realtà è vero che continua a essere un groove ma la concezione è quella di vederla come un film nel senso io metto una cassa diversa che funziona come film che mi serve poi per lanciare ad esempio l'inizio della strofa dove John Mayer incomincia a cantare. Infatti comunque lui poi dopo questa cassa rullante fatto a film suona il ride con i rivetti sopra quei ride che poi fanno tanto casino proprio perché quello lo usa come crash. Poi ovviamente questa è una canzone lenta quindi non è che si può mettere a suonare i crash. Ma comunque questa concezione che vi sto spiegando oggi può essere utilizzata in qualsiasi canzone. Nel senso l'idea è che non bisogna per farsi... Luca quando imparerai a parlare? Non bisogna per forza sempre fare i super film e sempre fare i super fighi della batteria. Cerchiamo di pensare più alla musica e a volte alla musica quel film che volete fare super figo non serve. Basta magari mettere una cassa diversa, basta magari aprire un charleston e basta per far sì che quel mini film che abbiate fatto aiuti la musica. Ad esempio se voi state suonando un groove normalissimo e anche molto semplice potete anche solamente aprire il charleston e magari fare un piccolo stop sul rullante. Oppure una cosa che fa ad esempio molto spesso Phil Mer è di usare le ghost come Phil. Cioè le fa Phil e lo usa come... Vabbè. Lui molto spesso fa questa cosa cioè fa un passaggio che non è un passaggio è un passaggio fantasma diciamo come lo stiamo chiamando oggi e il passaggio consiste nel fare solamente delle ghost. Ad esempio una cosa che fa molto spesso quando suona un ritmo normale è quella di andare a fare delle ghost ma in terzine. In questo modo il groove continua ma c'è qualcosa di strano che vuol dire questo è il passaggio poi cambia qualcosa nella canzone. Non so se mi sono spiegato ve lo faccio sentire che secondo me la rende di più. Oppure ancora meno questo oggi vi sto dicendo un po' di nomi di batteristi perché quello che mi ha fatto proprio venire in mente tutto è stato Steve Jordan. Poi andando un po' a pescare nei ricordi mi sono venute in mente molte cose e quindi sono andato un po' a mettere insieme tutto il puzzle. E una cosa che ricordo aveva detto Benny Grab in una sua clinic e quando l'ha detta e l'ha fatta sentire ho detto effettivamente ha ragione lui. Perché si pensa sempre ai feel come cose super difficilissime e non si pensa mai ai feel come pause? Un feel non deve per forza avere mille cose. Un feel può essere anche uno stop ovviamente quando ci sta nella canzone questo è ovvio. Ma se ci sta nella canzone e noi facciamo uno stop per poi ripartire con il ritornello il ritornello avrà ancora più botta perché ovviamente passiamo da 0 a 100. Quindi diamo ancora più spinta alla nostra canzone. Quindi detto questo io ho finito qui con i feel in realtà. Ci sono migliaia di tipi di passaggi fantasma ma boh quelli che mi sono venuti in mente da dirvi oggi ve li ho detti. Se ne pensate qualcun altro voi comunque scrivetemelo qui sotto nei commenti. più che altro fatemi sapere cosa ne pensate di questo video. Se l'avete visto tutto se vi siete rotti le scatole di vederlo se che ne so probabilmente se siete arrivati qui l'avete visto tutto. Però comunque vabbè fatemi sapere ugualmente cosa ne pensate fatemi sapere se questa idea del feel fantasma vi è piaciuta oppure se non vi è piaciuta se la sapevate già oppure va beh ditemi un po' di cose. Oltre a questo io vi ricordo di iscrivervi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti perché io so che qualcuno di voi vede questi video ma non si iscrive perché iscrivetevi mi raccomando. Oltre a questo se volete andate anche sui miei sociali Instagram e Facebook attivate la campanella e basta e basta. Chiudiamola qua ci vediamo al prossimo video. Ciao.